Bene, Luca Mazzoni, finalmente si torna a giocare con una squadra e in Serie B, quello che cercava anche Luca Mazzoni. No, indiscutibilmente, per la prima volta quest'anno mi sono trovato, dopo aver fatto la recensione con Livorno, a casa. Sicuramente non ero piacevole, quindi per cominciare a essere riuscito a trovare una società con la Ternana, una città importante di Serie B, bella piazza, piazza ambiziosa, quindi per me è sicuramente il massimo. Da disoccupato a essere comunque a disposizione della Ternana è sicuramente una cosa importante. Non deve essere facile per uno come Luca Mazzoni che è cresciuto, se possiamo dire, nel Livorno. Gran parte della carriera è stata vissuta con quella maglia, con quella maglia Maranto. Sì, praticamente, a parte qualche parentesi, giovanile, quella di due anni fa, a Padova sono sempre stato lì. Il mio cartellino era del Livorno da 15 anni, poi per me il Livorno chiaramente non è appunto più che rappresenta la scuola del cuore, la scuola del cuore sempre di fatto. Però si è arrivato in un momento dove si deve diventare un problema, io l'ho sempre detto, non voglio mai essere un problema per nessuno, tantomeno per il Livorno. Quindi si è raggiunto, insomma, questo accordo. È stato un po' traumatico, però secondo me era quello che in quel momento serviva, la Ternana è quello che mi serve in questo momento per ripartire alla grande senza pensare a niente. Anche perché a volte cambiare aria può servire per trovare nuovi stimoli, nuove motivazioni, no? Sì, a volte sì, per quanto mi riguarda gli stimoli non sono un problema, non sono mai stato. Chiaro che ci sono piazze e piazze, Terni è una piazza importante che dà stimoli diversi da altri, quindi si parte, adesso mi metto un carreggiato perché comunque ho bisogno di lavorare un po', mi metto a disposizione dei compagni, della società, comunque sono contentissimo di essere arrivato in questa piazza e in questa città. Quanto c'è da lavorare per Luca Mazzoni per raggiungere una condizione accettabile, insomma, a forma campionale, insomma? Ma ripeto, nella sfortuna della scuola di vita dello scorso anno, adesso magari diventa una fortuna perché, sendo stato fermo un po', magari ho la possibilità di lavorare con un po' più di tranquillità. Tre giornate sono ridotte? Sì, erano quattro ma sono diventate tre perché ne hanno tolta una, ma non credo che ci vorrà molto tempo, anche perché comunque un po' di allenamento l'ho svolto con una scuola di rega, però che mi ha dato la possibilità di fare un po' di allenamenti, chiaro non è un ritiro di una squadra di Serie B, però insomma, non parto proprio da zero, io penso che nel giro di un paio di settimane possiamo anche essere a posto. Per chi non conosce Luca Mazzoni, che portiere è Luca? Magari questo lo scopriamo perché con il passare del tempo e dell'età, insomma, un po' le caratteristiche sono cambiate. A me sono uno da cui piace giocare anche con i piedi, mi piace comandare la difesa, ma questo perché, perché ormai anche un po' di esperienza me la sono fatta. Poi io queste cose qui preferisco che poi la gente a fine anno o quando sarà, diranno loro se sono contenti o meno di Luca Mazzoni. Ho un portiere di Serie B che cerca di fare sempre il massimo. Sicuramente grintoso, quello lo posso dire, anzi forse a volte mi devo frenare un attimo e cercherò magari di farlo, perché è sempre dell'anno scorso, insomma, mi ha lasciato qualche cicatrice. Ho capito. E' un nuovo spogliatoio Mazzoni da quello che ci risulta? Beh, io cerco di esserlo, ma portando quello che sono, cioè non è che mi sforzo a fare chissà cosa. Io penso che arrivati magari a 31 anni in questo momento mi sembra di aver capito che sono anche il più vecchio dello spogliatoio, quindi non mi reputo vecchio, però insomma in questo momento di fatto lo sono. E io porto quello che ho, un po' di esperienza, un po' di carisma se riesco, un po' di spensieratezza a volte anche perché di noi libornesi. E spero che questa sia gradita, insomma, però adesso io so che in questo spogliatoio ci sono personalità importanti, quindi bisogna entrare giustamente con i piedi di piombo, prima di non essere l'ora a farmi capire un po' come all'andarsi, io devo essere bravo ad adeguarmi. Come è stato il primo impatto? No, il primo impatto ottimo, ma come mi è capitato già di dire ai tuoi colleghi, insomma, gli alterni, è una vita che rischio di venirci, poi non ci sono mai venuti, infatti quando stavo per saltare a tratto io ho detto che non è destino. È una città che mi piace, conosco tante persone che abitano qua, è una città che la sento vicina per un sacco di motivi, la vedo molto simile a Livorno, manca al mare ma quello non è un problema, è un'altra cosa. Ma so che i alterni sono persone genuine e sicuramente non avrò problemi a integrare. È stata una trattativa lunga, perché già prima della prima partita di Coppa Italia si diceva che Mazzoni, perlomeno leggendo un messaggio Facebook, che Mazzoni, di una persona che era vicina a te, che è stato preparatore del tuo, penso, quando eri giovane, doveva essere imminente l'arrivo di Mazzoni e invece abbiamo potuto aspettare più di 15 giorni. Sì, penso che, forse sono uscite un po' di notizie anche sui siti, però di vero c'è che con il direttore, da quando è arrivato il direttore Acri ci siamo parlati quasi da subito, devo ringraziarli, perché, devo essere sincero, sicuramente venire al termine era un po' nel desiderio di tanti altri portieri che in questo momento magari non avevano squadra. Io partivo magari sicuramente svantaggiato, perché per via del fatto che era svincolato, il fatto che magari giravano un po' di voci, perché quando un giocatore si svincola, poi ognuno è libero di tutto questo cuore, dalla sua interpretazione, poi oltretutto c'era un po' l'aggravante delle tre giornate che, insomma, hanno fatto un po'. Che non tutti sapevano. Che non tutti sapevano. Si diceva quattro, no? Si dicevano. Sì, vabbè, quello è anche normale che non lo sappiamo, perché l'anno scorso il ricorso me lo sono fatto da solo, quindi non è che sono stato a sponsorizzarlo, però, insomma, la società questo lo sapeva. Però io le devo ringraziare, perché comunque se mi hanno dato questa possibilità e questa fiducia vuol dire che hanno visto, insomma, del buono. Andando oltre al fatto della squalifica, al fatto che comunque l'anno scorso il mio finale di campionato è stato un po' travagliato dal punto di vista, diciamo, disciplinare e quindi magari sono nati nel mentre alcuni problemi, però le devo ringraziare, perché sono stati comprensivi, ho avuto la possibilità di parlare con l'allenatore, col direttore, di spiegarmi, di spiegare un po' qual è stato il problema dell'anno scorso e io in questo momento non posso parlarti di ringraziare. Bene, benvenuto a Terni, allora in bocca al lupo per il campionato che andrà a affrontare con questi colori rosso e verdi.